Al via Bratislava è il vertice dell'Unione Europea, il primo senza la Gran Bretagna dopo il referendum sulla Brexit. Ma in agenda non c'è la discussione del negoziato sull'uscita di Londra. Temi principali del summit sono emergenza migranti, flessibilità dei conti pubblici, sicurezza interna e difesa. L'Unione Europea è stata scossa da molte crisi e non possiamo fare finta di niente, bisogna reagire e ridare sicurezza ai cittadini, avverte il presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk, che poi invita i leader a fare una diagnosi realistica sui motivi dell'abbandono del Regno Unito. Porteremo al vertice la nostra idea, secondo cui per ogni euro messo nella sicurezza va speso un euro in cultura e istruzione, dice il premier Renzi.